Buonasera a tutti, fanno tutti i video col cappello e vabbè mettiamo il cappello anche noi no? Poi in maniera un po' diversa perché la mia generazione il cappello lo portava piegato qua perché faceva figo che con l'aletta dritta così era da bimbo minchia come lo mettono oggi per cui per me ancora da bimbo minchia con l'aletta piegata, a me piace un po' così alla Thomas Magnum. Per cui cappello, un bel cappellino da baseball con uno sponsor milanese stupendo che ha fatto la storia dell'automobilismo e vabbè però adesso basta scherzare e cazzeggiare perché a me comunque sia le robe in testa mi deconcentrano e stasera voglio farvi un discorso serio sullo stucco e sull'antirombo. Allora stucco e antirombo è il diavolo, il diavolo purtroppo c'è sempre molta disinformazione su questi due amici nemici dell'automobile storica. Allora cominciamo dallo stucco. Allora lo stucco è un amico, non è un nemico in realtà nel senso che è impossibile mettere insieme una macchina di grande livello senza qualche rasatina di stucco. È normale, è assolutamente fisiologico, il problema è che purtroppo nel corso degli anni i carrozzieri hanno riparato ogni cosa con lo stucco, si narra che alcuni avessero la betoniera di stucco che girava sempre fuori e quindi la gente tende a vederlo un po' come il demonio. Certo che dopo che hai così sverniciato delle automobili dove gli spessori di stucco erano più vicini ai 5 centimetri che al centimetro, poi dopo un po' di pregiudizi vengono. Poi c'è stucco su stucco su stucco, poi si crepa, salta via, fa la ruggine sotto. Io credo di aver visto anche più volte il sistema delle palle di giornale, dove ci sono i buchi di ruggine, palla di giornale come l'imbianchino quando trova il buco nel soffitto, palla di giornale e poi stucco poliestere a rasare. Lo stucco non si usa così, lo stucco deve fare degli spessori di pochi millimetri, anche meno di 5, nel senso che purtroppo il lavoro che può fare lo stucco è quello lì. Poi oggi abbiamo degli stucchi che fanno il lavoro anche delle stagnature di una volta, per cui riescono a sopportare spessori ben maggiori. Cioè se voi fate uno spessore di pasta di vetro resina, a posto che fare uno spessore non è mai una bella cosa, nel senso che un lavoro a regola d'arte dovrebbe presentare la lamiera nella forma giusta e poi qualche colpo di rasata proprio per togliere l'imperfezione finale. Però se noi paradossalmente dovessimo fare una palla di stucco vetro resina alta 10 centimetri non si creperebbe mai perché è composto da resine e pagliuzze di vetro resina, pagliuzze di fibra di vetro scusate, non di vetro resina, per cui è armata in tutte le direzioni e non si spaccherà mai e così più o meno lo stucco alluminio, lo stucco metallico, sono comunque delle paste dove non è contenuta solo una polvere che quindi determina un aspetto cremoso come lo stucco poliestere, quello tradizionale beige che si usa in carrozzeria, ma determina proprio un'amalgama armata da fibre che resistono in ogni direzione e quindi eliminano il problema delle crepe che è poi quello per cui lo stucco ha una cattiva fama. Lo stucco, come vi dicevo, innanzitutto lo stucco è un amico per cui non spaventatevi di vederlo usato anche su superfici estese, se è usato nella maniera corretta non c'è assolutamente niente di male. Ho presentato qualche mese fa le foto di una 500 in fase di restauro, la nostra, quella che avete visto, 500 cafferesser nera, aveva qualche rasatina di stucco, sono insorti dei professoroni, ah lo stucco e ragazzi non si può cambiare tutti i lamierati della macchina per non usare lo stucco, è un lavoro da imbecilli, anche perché poi perdi di più l'originalità e le forme della macchina in quella maniera lì che non usando un po' di stucco. L'unica accortezza appunto è non fare spessore, soprattutto come fa la maggior parte dei carrozzieri, non riesce a ficcarsi in testa che lo stucco non è fatto per essere dato sulla lamiera grezza, ma sul primer, per cui sotto ci va sempre l'epossidico, perché lo stucco fa da innesco di ruggine, per cui epossidico, opacizzata per far attaccare lo stucco e poi le rasate di stucco sopra. Ok, per cui sfatiamo questo mito dello stucco che non è utilizzabile per fare un buon lavoro, cazzata. Antirombo. Allora, l'antirombo è per conto mio uno dei mali peggiori dell'auto d'epoca, io odio e detesto l'antirombo, diversamente dallo stucco, perché trovo che abbia una finitura è una mano veramente orrenda. L'antirombo lo usa sostanzialmente chi non ha voglia di lavorare e chi non ha le capacità di produrre un lavoro pulito sotto. L'antirombo copre qualsiasi cosa, viene dato generalmente su terra e ruggine dai carrozzieri che amano tagliare corto, è una vernice di bassissima qualità anche se esistono oggi altre varianti plastiche, lo scudex, altre cose del genere che producono insomma quelle bucce più o meno grandi che hanno l'aspetto dell'antirombo, antisasso, antipietrisco, come cazzo volete chiamarlo, è una schifezza senza pari e non ce n'è nessun bisogno sull'automobile. Si crede che l'antirombo e il catrame siano una protezione contro la corrosione, invece non è affatto vero, sono un prodotto totalmente pleonastico, totalmente inutile, che serve a tagliare corto e a coprire le magagne in fretta. Allora, cosa posso dirvi sull'antirombo? L'antirombo serve sostanzialmente, guardate, serve dove ci sono i cieli dei parafanghi, sopra il battistrada delle ruote, dove c'è effettivamente un movimento della ruota che continua a sparare il pietrisco e sabbierebbe la verniciatura se questa non fosse gommosa, ok? È un problema che esiste, non porta comunque ad una corrosione passante, anche se dovesse arrivare alla miera nuda e colorarsi di rosso, non succederebbe assolutamente niente, perché non esiste ristagno di acqua in quella posizione lì, quando finisce di piovere si asciuga e quindi rimane quella rugginina rossa superficiale. La mia Jeep non aveva di fabbrica l'antirombo sotto i parafanghi ed è così, c'è un po' di sbucciata dove sopra il battistrada delle ruote, sotto i parafanghi, ma chi se ne frega nel senso, ci vuoi mettere un po' di antirombo? Metti un po' di antirombo, ma una spruzzata giusto lì. Il fatto di riempire vani motore, covani motore, sottotelai, antirombo dappertutto, dato sulla meccanica, sulla terra, sulla ruggine, l'antirombo è un disastro, è una bruttezza, è condannabile prima di tutto dal punto di vista estetico, che non tecnico. Tecnico poi per altre ragioni. Inoltre dobbiamo dire che l'antirombo, se è applicato sulla lamiera pulita, come in fabbrica, sulla vernice pulita, sul primer pulito, come in fabbrica, ha una buona durata. Al contrario, se lo mettiamo su un supporto che è già sporco, perché non abbiamo voglia di pulirlo, l'antirombo cosa fa? Fa crosta, quando compie l'operazione che compiono tutti i materiali che sono gommosi alla lunga, cioè si seccano, l'antirombo comincia a staccarsi senza che voi possiate vederlo, perché comunque ha uno spessore consistente, sotto si forma la camera che trattiene l'umidità. Al momento in cui voi, dopo 20 anni, con la spatola andate a togliere l'antirombo, sotto c'è già un bel buco di ruggine. Anche no. Anche no. Voi mi direte che ci sono delle macchine che portano l'antirombo di fabbrica. Ad esempio, Porsche 356 sotto è tutto antirombato, la 500 è per gran parte antirombata, nel vano motore, le Fiat avevano questa brutta finitura. E vabbè, lì così, se volete l'originalità, rimetteteci anche l'antirombo, però abbiate cura perlomeno di usare un prodotto di qualità di nuova generazione e perlomeno di pulire sotto e preparare, in grazia di Dio, con dell'epossidico, con un primer di qualità. Per cui, stucco sì, in misura molto molto limitata. Antirombo, ma proprio evitiamolo, se proprio non è sopra ai battistrada delle gomme dove serve. Questo è ciò che penso io. Per cui, voi ditemi qui sotto nei commenti, come al solito, invece quello che pensate voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buona serata, ricordatevi di iscrivervi al canale. Grazie.